Italiani e italiane, voi siete adesso a tavola, se fate un brindisi, fatelo anche per il vostro presidente che vi ama tanto e cercate sempre di stare vicino ai vostri figli, ai vostri giovani che si affacciano adesso alla vita, io ai giovani questo io dico, è martello su questo punto, costituiscono l'avvenire del popolo italiano, lottate quindi con fermezza giovani che mi ascoltate, perché lottate in questo modo per il vostro domani e per il vostro venire, lotterò sempre al vostro fianco per la pace nel mondo, per la libertà e per la giustizia sociale, buon anno a tutti voi, miei connazionali italiani e italiane.